Bene, oggi siamo con la seconda edizione di Connect Event, appuntamento molto importante dove vogliamo mettere in relazione imprese non solo della nostra regione ma anche fuori in regione che chiaramente soprattutto in ottica di internazionalizzazione, di riconoscibilità delle rispettive specificità produttive si incontreranno in questi due giorni, si affronteranno quelle che possono essere tematiche comuni e soprattutto cercheranno di sviluppare progetti di business in comune. Ormai il concetto di rete è un concetto che travalica i confini regionali e i confini nazionali, noi dobbiamo ispezire il nostro sistema economico, rafforzarlo e questa è una delle strade. Grazie